E sappiamo che non abbiamo grandi risorse, quindi una battaglia sicuramente è un indirizzo importante del governo è pagare meno, pagare tutti, quindi la lotta all'evasione fiscale con l'obiettivo però non di alzare le tasse ma di usare tutti i guadagni, la lotta all'evasione fiscale per ridurre le tasse per tutti, quindi più equità e abbiamo 100 miliardi potenzialmente aggredibili, il governo ne ha messo in cantiere 7.